Gli amici, ben arrivati in questa seconda puntata di Foto News. Ciao Roberto. Ciao amici vicini e lontani. Allora vedi Roberto, ci avviciniamo a Natale e mi sono messo il maglioncino pre-natalissimo. È vero, è vero. In realtà, siccome come sai che sto trasferendo tutto, i deposifoni sono spenti, non funzionano più niente e di fatto ci ha messo il maglione più pesante della malbora che c'avevo nell'armadio. Comunque, a parte questo, ci avviciniamo a Natale, quindi mi sembra giusto mettere un rosso, rosso speranza. Perché oggi, ragazzi, parliamo di quote di mercato, parliamo di quote di mercato, parliamo di mercato fotografico. Insomma, sarà una Foto News incentrata tutto su questo. Perché ultimamente sono uscite diverse notizie, pum pum, scoppiettanti, riguardanti il mercato fotografico. E allora, facciamo una bella cacchierata. Vi ricordiamo Foto News e cerchiamo di commentare alcune notizie relative appunto a ciò che succede nel mondo della fotografia. Non sono le riflessioni fotografiche. È una cacchierata, un po' come se fossimo a bar intorno al tavolino, con un bello spritz. Lo spritz non c'è, ma comunque facciamo finta. Allora, Roberto, diamo la notizia bomba che magari qualcuno ha già lavorato a letta. Cari amici, amanti delle reflex, io l'ho già detto in una riflessione fotografica e qualcuno subito, una medusa da pastiera, mi aveva criticato. Ve l'ho detto, Canon, anche Canon seguiva le orme di Nikon e quindi le ammiraglie di casa Canon smetteranno di essere prodotte ammiraglie, ovviamente, reflex. Purtroppo, quindi la Canon 1DX Mark III, che è una signora, strepitosissima fotocamera, è l'ultima reflex della storia di Canon. Da quel momento in poi, cioè da adesso in poi, Canon si concentrerà solamente sulle mirrorless. Ha detto che lascerà, soprattutto nel mercato, oltre c'è uno, aperta qualche prodotto, qualche linea di produzione per fotocamere reflex, perché ancora c'è qualcuno che le compra. Ma sostanzialmente, ragazzi, ormai, purtroppo, pulsano di morto e questa è la verità. Le reflex stanno scomparendo, perché in un mercato, diciamo, poco profittevole, anche tra virgolette, oggi parleremo, Roberto, anche di questo, insomma, poco profittevole fino a un certo punto, i produttori vogliono ottimizzare le linee di prodotto. Allora, a caldo, Roberto, che dici di questa notizia? Dico che Sony è la responsabile di questo, proprio, è il mio primo pensiero. Quando ho sentito per Canon, ho detto, Sony con quella cavolo di serie, cavolo tra virgolette, serie A7, ha dato altro che spallata al mercato, cioè l'ha girato completamente. Io sono convinto, non fosse stato per Sony, le reflex ci sarebbero ancora e venderebbero alla grande. Però Sony ha imbroccato la strada giusta e quindi, bene o male, anche i giganti della fotografia, giganti insomma, ma sì, ormai i giganti si sono un po' abbassati di livello, si sono dovuti adeguare, se no sparivano. Quindi già stanno facendo fatico, poi vedremo le quote di mercato. Comunque il motivo è quello. Provo una certa nostalgia per quei prodotti e anche nostalgia per quando ti vedevo lavorare con una 1DX Mar 2 che godevi. Nonostante amiamo il mirrorless, cioè l'attare fotocamera il mirrorless, l'amiamo, però onestamente ragazzi, adesso a parte le battute, ci dispiace che comunque finisca di fatto un'era, che è quella delle reflex, che comunque hanno tanti aspetti positivi. Io ho fatto anche la riflessione fotografica, insomma, ho appunto parlato di come comunque lavorare con le reflex ha ancora diversi aspetti positivi e a questo punto, Roberto, direi di collegarsi con la seconda notizia che è tutto per legato ormai oggi, che è praticamente un sondaggio che è stato pubblicato da Shotkit, insomma un importante sito, insomma un punto di riferimento per quanto riguarda il mondo della fotografia, ha fatto un sondaggio su un campione di mille fotografi per rispondere a una domanda quale fotocamera usano i fotografi amatoriali e professionisti nel 2022. Fa riferimento ad un mercato specifico, quindi bisogna tenerlo presente, perché poi a livello worldwide chiaramente le cose possono essere diverse, però sono usciti fuori degli spunti interessanti. Allora, il primo spunto che vi leggiamo ragazzi, è che il 63% dei fotografi professionisti ormai utilizza una mirrorless come fotocamera, mentre gli amatori sono al 54% a favore delle mirrorless, quindi se tra gli amatori ancora c'è quasi un parimerito tra fotocamera reflex e fotocamera mirrorless, nel mondo invece della fotografia professionale ormai sembrerebbe che le mirrorless stiano ormai dilagando. Solo l'1% Roberto utilizza entrambi i sistemi, che ne pensi un po' intanto di questo primo dato che esce fuori? Allora, ti dico la verità, proprio brevemente, mi meraviglia un po' il fatto che i professionisti stanno switchando abbastanza velocemente verso le mirrorless, perché comunque uno switch di quel genere è uno switch dispendioso, quindi un professionista deve valutare anche i costi, deve stare molto attento, quello che spendi te lo devi poi man mano ammortizzare. Però evidentemente abbiamo avuto contatti anche con dei professionisti italiani, tra un po' di tempo faremo un'intervista con un professionista in ambito sportivo, e in effetti anche lui si è accorto che un buon numero ormai sta mollando la reflex per andare sulla mirrorless, specialmente quando c'è una piena compatibilità a livello di vecchi obiettivi, insomma cerca un po' di bilanciare. A livello di letta amatoriale, secondo me è legato anche un po' il fatto che chi ha la reflex magari non ha i soldi, non ha il potere per poter acquistare una mirrorless, cioè c'è anche questo, prima di vendere una reflex magari la mirrorless costano sempre di più, in effetti, 2000 dollari, 2000 euro, ci pensa un po', quindi lo switch non è così immediato, cioè chi ha una D750 ci pensa su prima di... La cosa interessante Roberto è che sono le motivazioni che escono da questo sondaggio, perché i motivi principali sono che sono più piccole, più leggere, hanno un autofocus migliore e sono stabilizzate. Ora, sul tema della stabilizzazione credo che sia un fattore davvero importante, perché effettivamente con la reflex il discorso dello specchio ti porta comunque ad utilizzare sempre tempi di super sicurezza e quindi salire con gli iso, tutta una serie di aspetti che vanno considerati. Sul discorso della stabilizzazione mi trovo d'accordo, sul discorso dell'autofocus qui è una bella battaglia, perché io continuo a dire che secondo me... Non apriamo sto discorso. Sì, ma insomma, adesso togliamo Canon, Sony e forse in parte Nikon, diciamo con la Z9 eccetera, anche se anche lì bisognerebbe vedere bene come stanno le cose, comunque a parte i soliti noti di Canon e Nikon, io, questo super autofocus è forte, le mirrorless sono forti per quanto riguarda il tracking del volto, soggetto eccetera eccetera, molto in più rispetto alle reflex, anche perché alcune non ce l'hanno proprio. Però le reflex, secondo me, come autofocus predittivo, parlo delle reflex di alto livello, sono veramente molto potenti. Va detto che qui parliamo di un calderone molto ampio, cioè di fotocamera reflex entry level e mirrorless entry level. La mirrorless entry level è comunque superiore in ogni aspetto dal punto di vista tecnologico da una reflex entry level e questo va detto. Sul tema invece, Roberto, ti faccio questa domanda, sul tema della piccolo e leggero, ma tu sei d'accordo? Cioè io ho qualche dubbio. Allora, piccolo e leggero una volta, appena sono uscite le mirrorless. Le mirrorless incarnava il piccolo e leggero. Adesso ormai che le reflex sono capute, ai costruttori li interessa fino a un certo punto e quindi hanno fatto dei corpi sempre più importanti, che sono più o meno come volumetria, leggermente più piccole. Prendiamo l'esempio della Canon. La R3 è più compatta del 1DX Mark III. È anche vero che la Z9 è grande come la D5 e la D6. Quindi c'è che comunque, specialmente il professionista, deve essere comodo avere i pulsanti al posto giusto. E comunque man mano si sta abbandonando. Quello che ho visto è anche che c'è una certa ricerca e sta avvenendo di compattare gli obiettivi. Perché? I primi obiettivi erano praticamente trasladati gli schemi ottici dell'RF sulle mirrorless e quindi le volumetrie sono più o meno simili. Adesso ci sono nuovi esemplari fatti da Sony, fatti da Canon, i primi che vengono in mente, che stanno compattando anche la volumetria degli obiettivi, specialmente sui lunghi fuochi. Però non è più vero che il mirrorless è estremamente piccolo. È più leggera ma non è in maniera eclatante. Certo che un professionista che sta su un circuito e ha due chili meno in mano, dopo 10 ore magari è più contento. Però insomma è un po' relativo. Guarda, io ti dico, sì sono d'accordo, è molto relativo, dipende da sistema a sistema, da casa a casa. Perché intanto io continuo a pensare che se uno acquista un corredo full frame, mirrorless o reflex, ora se utilizzi lunghi fuochi, se utilizzi alcuni obiettivi e per alcuni marchi, cioè ad esempio Sony e Canon, di fatti hanno il 70-200 molto più piccolo, il 2.8 parliamo anche del 24-70 un pochino più compatto, cioè hanno cercato di compattare un po' le dimensioni. Per altre marche non è così, per Nikon il 70-200 2.8 pesa una focilata, tanto quanto per il mondo reflex, stessa cosa per il discorso del 24-70. Quindi secondo me è anche la serie 1.8 che performa meglio rispetto alla 1.8 di reflex, comunque non è che siano piccole e compatte. Per cui onestamente questa più piccola e più leggera, boh, non lo so in quale film gli americani l'hanno vista sta roba qua, perché a me non risulta. Se invece andiamo con Fuji e con Mico 4 III, allora il discorso ovviamente cambia e lì ci può stare, ma qui parliamo anche proprio di un cambio di standard, di formato del sensore. Non lo so, su piccolo e leggero forse dipende anche che tipo di professionisti hanno intervistato, un conto matrimonialista, un conto fotografo sportivo, per il quale può darsi che effettivamente le Miro e le S rappresentano una convenienza sul piano dei pesi e degli ingombri. Per il matrimonialista, Roberto, con tutta franchezza, non credo ci sia uno stravolgimento totale. No, a me non è che, come hai detto giustamente, uno prende, che ne so, con Red Fuji, ma lì cambia il formato del sensore. Quindi grazie. Sì, però qui arrivo all'altro punto. Se prendi la Sony, se prendi la 7.4 e ci metti su gli zoom professionali classici, i pesi siamo lì, eh. Cioè, quindi non è che... Sì, sì, appunto, appunto. Comunque, dicevo, quali sono le fotocamere più usate dai professionisti? Anzi, qual è il brand, prima di tutto, più usato dal professionista e quello usato dall'amatore? Qui ho dei dubbi, ma comunque, Nikon è 31%, Canon è 28%. Diciamo che Nikon e Canon se la abbattono, no? E Sony, 20%. Subito dopo, beh, non vicinissimo, perché 20% Sony, 12% Fuji, però c'è Fuji. Tutto il resto fa sostanzialmente ridere, circa un 1%, un 2% Panasonic, insomma, vabbè, poca roba. Allora, ora, il fatto che sia un pochino più Nikon e più Canon, io credo che dipenda dal campione che hanno preso. Non perché, cioè, Canon, Nikon è utilizzata tantissimo dai professionisti, anzi, molti professionisti che sono legati al marchio Nikon, continuano sempre a utilizzare Nikon, non ci pensano minimamente di tradirlo con altri marchi. Cioè, è un tipo di clientela molto fedele al marchio. Sul discorso che, invece, di Sony al 20%, Roberto, che mi dici? Perché, qui, teniamo conto, di Reflex e di mirrorless per Canon e Nikon, invece per Sony, solamente le mirrorless. Eh, difatti, questo è il punto. Questa è la chiave del discorso. A parte il mercato americano, a parte un campione su mille intervistati, il fattore che ci siano ancora tantissime Nikon e Canon Reflex utilizzate a livello professionale, è ovvio che la percentuale aumenta, perché ci metti due tipi di tipologie di macchine. Fossero solo mirrorless, secondo me sarebbero lì tutte le tre aziende, anzi, forse Canon e Sony sarebbero un po' superiori. Fatto sta che, è la dimostrazione che ancora, comunque, i due marchi storici per eccellenza sono lì ancora in cima, con Sony che sta rosichiando tanto. Un fattore importante a livello professionale, poi ci faremo magari un'indagine, è l'assistenza sul campo. Questa è una cosa che al professionista, ovviamente, interessa tantissimo. Andare in un campo di calcio, e sapere che se ti si rompe l'obiettivo, hai l'obiettivo in sostituzione, se hai la macchina rotta, c'hai il muletto, Canon, per dire, da quel che so, è ancora quella più efficace in questo settore, almeno a livello europeo, non so, a livello americano. Sì, sono d'accordo, assolutamente è un fattore importante, però fa riflettere, mentre parlavi di, pensavo, all'1% che hanno entrambe, no, di fotografi professionisti. Questo vuol dire che sono stati molto furbi, se Canon e Nikon, no? Dice, vabbè, con questo sistema può utilizzare sia le ottiche Reflex, che le ottiche Canon, le ottiche Mirrorless, avere tutte e due fotocamere Mirrorless e fotocamere Reflex, no? Cioè, con Canon e con Nikon, la verità è che dopo, se uno fa il passaggio, fa il passaggio in maniera integrale, evidentemente, tutt'al più si tiene qualche ottica, ma di fatto, o utilizza Reflex, o utilizza Mirrorless. Roberto, ti leggo un'altra cosa interessante, per quanto riguarda, sempre di questo sondaggio, i modelli più utilizzati dai professionisti, e qui, diciamo, sono rimasto abbastanza sorpreso. Allora, la fotocamera più utilizzata è la Sony A7 III, poi c'è la Canon R6, l'unica Reflex che si difende è la Nikon D750, e poi viene con un po' di distacco alla Fuji X-T3, eccetera. Che ne pensi di questa cosa qui? Cioè, la Sony A7 III, ancora oggi, nel 2022, è la fotocamera più utilizzata anche nel mondo professionale, e qui penso che a questo punto il campione, suppongo che sia fatto di molti matrimonialisti, perché mi sembra evidente. Sì. Non ti ha sorpreso. Relativamente, perché la Sony A7 III, abbiamo visto, è stata veramente una bomba, e le sue prestazioni sono ancora più che sufficienti, come tante macchine, devo dire, per il professionista dipende in che settore, hai detto giustamente, matrimonialista, certo, se uno fa sport super dinamici, magari va su mirrorless più recenti di Sony, per dire, però ti dà ancora tutto quello che serve, un bel sensore, un retroilluminato, un autofocus decente, stabilizzato, se poi vedi che non è efficace, al 100% utilizzi la vecchia maniera, tipo reflex, stabilizzata, e un professionista dice, chi me lo fa di andare a prendere una Sony A7 IV, una Sony A7 R5, mi va benissimo questo, due corpi, gli obiettivi, perché devo cambiare? è anche una questione di costi e di spese, non è che la gente i soldi li butti, quindi è la stessa cosa anche per gli altri modelli, anche l'XT3, è la macchina che dice ancora la sua, cioè non ha nessun problema, utilizzata, conoscendo bene l'attreccio, ti dà tutte le prestazioni, specialmente a livello di sensore, perché il sensore è rimasto sempre l'X30 a 26 milioni di pixel, e quindi uno dice, perché devo prendere l'XT4, perché devo prendere l'XT5 e l'H2, mi tengo l'XT3, stessa cosa la 750, che è una macchina, penso una delle macchine più indovinate di Nikon, in assoluto. Ah, sicuro, perché i professionisti utilizzano fotocamera e mirror, l'abbiamo accennato prima, però ti do le statistiche, perché questa è una cosa interessante, allora, il fatto che sono più piccolo e più leggere, il 20%, 20% di gente che non conosce la matematica, evidentemente, comunque, perché non si è fatto i conti, migliora autofocus, 17%, scatto silenzione, 12%, questo secondo me è il vero, uno dei veri grandi vantaggi delle fotocamere mirrorless, a mio giudizio, stabilizzazione, 12%, ovviamente stabilizzazione sul sensore, preferiscono il 10%, il mirino elettronico, per un discorso di qualità video migliore, 7%, quindi il video, alla fine vedi che non è, insomma, sì, è importante, ma non è una cosa fondamentale, e poi avrei cose, diciamo, meno, nirilevanti, da un punto di vista della percentuale, che ne pensi, Roberto, al volo, e poi vediamo perché uscegono le reflex. Ma guardando queste statistiche sono molto variegate, ci sono tanti, è un po' come se dovessimo intervistare chi ci segue nel nostro canale, e potrebbe essere un'idea, fare una specie di... Sì, sì, di sondaggio, sì. Di sondaggio, Perché preferite quella fotocamera a quell'altra, perché preferite la mirrorless, la reflex, più o meno, su grandi linee, questo discorso si sta, la compattezza, diciamo, dipende, la stabilizzazione, poi siamo lì, chi preferisce il mirrorless elettronico, chi preferisce l'ottico, ci sono varie, varie schiere di appassionati, però fondamentalmente quello che viene fuori da questo, da questo sondaggio, ci stavo pensando, tanto che parlavi, è che comunque, se uno, nonostante ci, ci siano sempre modelli nuovi, no, un martellamento continuo, se uno è un attrezzo, e questo mi fa piacere, devo dire, che funziona bene, sono un amatore, un professionista, ci pensa bene, prima di fare un upgrade, perché, abbiamo visto che fotocamere, di 4 o 5 anni fa, sono ancora in mano, a tantissime persone, e quindi, questo mi fa piacere, devo dire. Sì, sono d'accordo, al 100%, senti, il motivo per cui, i professionisti, usano ancora reflex, sono, allora, migliore selezione di lenti, 23%, più che altro, un numero più, anche più ampio di lenti, perché lo switching, e questo lo dicevi tu, lo switching tra mirrorless, e reflex, è troppo costoso, 19%, poi abbiamo, più robustezza, più durabilità, e migliore qualità, migliore qualità, migliore longevità, diciamo, adesso lo sto traducendo dall'inglese, della vita delle batterie, sono una soluzione più, come dire, più cheap, meno cara, rispetto alle mirrorless, anche questo tendenzialmente è vero, migliore ergonomia, perché preferiscono il mirino ottico, e perché sostanzialmente, non amano, lasciare esposto, alla, diciamo, così, senza copertura del led, dello specchio, il sensore, quando cambiano la lente, vabbè, percentuale molto bassa, io devo dire che, mi sembra, chi utilizza reflex, mi sembra molto centrato, nel senso che, effettivamente, i vantaggi che ha presentato, sono, sono i veri, sì, sono veri, sì, assolutamente, sono tutti, discutibili, ora uno può parlare, più, più importante fattore, rispetto all'altro, ma sono, assolutamente, veri, vabbè, comunque, sostanzialmente, è un sondaggio interessante, ragazzi, non è, ovviamente, la fotografia mondiale, la fotografia mondiale, che le mirrorless, stanno, prendendo, ovviamente, in largo, questo, da una parte, è un bene, perché abbiamo sempre detto, che le mirrorless permettono evoluzioni tecnologiche, che le reflex purtroppo non permettono, e comunque, almeno io, sono a vantaggio di sistemi veramente compatti e leggeri, per quanto riguarda il mondo della fotografia, cioè, io continuo a pensarla così, quindi, preferisco, diciamo, sistemi mirrorless, che incarnino la filosofia originaria del, anch'io, del mondo mirrorless, anch'io, coerentissimo, con il meglio della fotografia, ascolta, allora, facciamo invece una panoramica, Roberto, a livello mondiale, perché poi ci siamo andati a guardare, le quote di mercato, a livello mondiale, questo è uno spaccato, è un carotaggio, in un mercato ben preciso, vediamo a livello mondiale, a livello mondiale, Canon, ragazzi, ovviamente si intende, attenzione, reflex più mirrorless, comunque, ancora il 45,8% di quote di mercato, però ha avuto un calo rispetto all'anno precedente, rispetto al 2020, perché questo fa riferimento ai dati consuntivi del 2021, del 2,1%, vabbè, siamo lì, insomma, 45, 46% di fatto della quote di mercato, Sony è il secondo marchio, ragazzi, attenzione, 27%, molto distante oggettivamente da Canon, con un incremento del 5%, è chiaro che poi dipende molto dal modello che esce in quell'anno, Nikon è il terzo marchio con l'11%, e Fuji il quarto marchio con il 6%, Panasonic è il quinto marchio con il 4,4%, insomma, rimane più o meno stazionario, Roberto, che mi dici di queste quote di mercato? Beh, direi che Canon ci sa fare comunque, anche se non soltanto venga, certi modelli vengono criticati, non vengono apprezzati fino in fondo, però bisogna, ci accorgiamo che quando abbiamo in mano una Canon, bisogna leggere un po' fra le righe, cercare di valutare i pro, i contro, e alla fine capiamo comunque che lo strumento, o bene o male, Canon ci becca, poi dopo questa filosofia dei piccoli passi, no, piccoli miglioramenti, però alla fine... di riciclare eccetera... Eh, di riciclare, se il mercato gli dà ragione, vuol dire che ha ragione, quindi c'è poco da fare, l'abbiamo criticata abbastanza spesso per gli obiettivi, nel senso la quantità di obiettivi disponibili, scarsa e costosa, per l'RF, però alla fine Canon sta ancora dominando il mercato, perché è a quasi metà del mercato totale globale, Sony sta galoppando alla grande, cioè ormai sia perché ci sa fare, sia perché bene o male tutti i modelli che escono sono comunque molto affidabili. Scusa Roberto, aggiungo un valore, è un dato per i nostri amici, che il 44% di sensori prodotti a livello mondiale arriva da Sony al 44%. Certo, certo, di fatti domina il mercato anche per quello, si sta prendendo un po' per il collo, e stranamente chi è l'unica azienda che per adesso riesce a tenere botta? Canon perché si rifa lei i sensori, non è casuale la cosa, non è assolutamente casuale, perché se io ti do un prodotto, io ti do il sensore, che ormai è il cuore, sapete bene, col processore della macchina, io ti dico io te lo do, no però insomma 40%, è un marchio autonomo, il 18 Samsung, per dire che comunque lavora, adesso non so se in questi sensori viene considerato, no, i CMOS, pensavo anche ai cellulari, e a un certo punto Sony ha un po' le brighi in mano, no, degli altri costruttori, io ti do il sensore, però, occhio eh ragazzi, non esagerare, non rompere me. Va beh, insomma, è evidente, guarda, diciamo che non mi stupiscono queste quote di mercato, perché è ovvio che le reflex ancora impattano molto, soprattutto nel mercato, secondo me, pressionistico, sportivo, eccetera, quindi ovviamente questo incide tanto sulle quote di mercato, abbiamo visto che comunque tra gli amatori, soprattutto in America, c'è molto l'utilizzo ancora delle reflex, e quindi è evidente che Canon tiene alta la quote di mercato per questa ragione, sicuramente il 30% scarso, il 27% di Sony, sono d'accordo con te, è un dato veramente rilevante, mi fa piacere vedere Nikon al terzo posto, perché non sia andato oltre al terzo posto, tra l'altro Nikon ha fatto anche bene, ha aumentato notevolmente i profitti, fra poco ne parleremo dell'aumento dei profitti delle aziende, e devo dire che Fuji comunque è vero, il 6% è nulla rispetto al 45%, quindi parliamo veramente di quisquiglie, però comunque quantomeno riesce a guadagnare un quarto posto assolutamente meritato, considerando che diciamo che la serie più redditizia, supponiamo più venduta è sicuramente la serie APS-C, la più redditizia probabilmente è il meglio formato. Comunque insomma un dato interessante a livello mondiale, per quanto riguarda la situazione, insomma Canon rimane ancora al vertice, vedremo cosa succederà quando Canon di fatto e Nikon ne smetteranno definitivamente di produrre tutti i prodotti Reflex, allora a quel punto Sony se la gioca veramente alla pari con Canon e Nikon, allora lì sarà interessante vedere. Io credo che la fin fine ci sarà un exequo tra Canon e Sony, ecco prevedo una ripartizione del mercato quasi a due, con qualche cosina che rimane a Nikon e a Fuji, o chissà Panasonic se si sveglia, eccetera. Sette, invece andiamo verso la chiusura facendoti una domanda, che il prezzo unitario medio delle fotocamere digitali con obiettivo intercambiabile, quindi parliamo di ottimi intercambiabili, è triplicato negli ultimi dieci anni, è triplicato negli ultimi dieci anni. Che pensi Roberto di questa cosa? E secondo te, ti faccio l'ultima domanda legata a questo, la qualità del prodotto è aumentata in proporzione all'aumento del prezzo delle fotocamere? Non so se è chiara la domanda. Sì, certo, cerco di essere breve, anche perché stiamo andando forse appena in pelo lunghi, ma il discorso del prezzo, sicuramente i prezzi sono aumentati tanto, non so se sono triplicati, ma così a pelle avrei detto raddoppiati più o meno, così paragonando quello che mi costava, col potere d'acquisto parlo a una Redfest dieci anni fa, anzi sì, quindici anni fa, e una mirrorless dello stesso livello. Quindi comunque i profitti sono aumentati, ma perché? Perché secondo me le vendite sono, cioè non secondo me, è andato di fatto, le vendite in assoluto sono diminuite. Sapete benissimo che le compatte sono sparite, e le compatte vi assicuro che erano oro colato per i produttori, costavano un piffer a loro, ne vendevano delle barconate, e si facevano soldi a pagate, infatti tante ditte sono sparite, tanti marchi, proprio perché le compatte sono sparite. Quindi qui ormai parliamo di macchine fotografiche da livello medio medio alto in su, perché ormai quelle proprio super economiche anche lì stanno crollando. Quindi vendendole meno, per avere dei profitti adeguati, hanno aumentato i prezzi, quindi ricavano di più su quello che è il costo, il mio pensiero, dell'assemblaggio componentistica, e poi quello che viene messo sul mercato. A livello di qualità, ho i dubbi, allora dipende da cosa andiamo a paragonare, le top top di gamma sicuramente hanno un'ottima qualità costruttiva, R3, Z9, A1, ma anche la Sony A7 e R5, però non è che sia anni luce rispetto a quelle che sono le reflex top di gamma, anzi, secondo me le reflex, avendo molta parte meccanica, che è quella che costa alla fine, a livello sia componentistico, sia a livello di precisione di montaggio, cioè lo specchio non lo puoi montare sotto, è vero, neanche un sensore, però i meccanismi, faccio un paragone, prendete un orologio digitale, un orologio digitale, e un orologio meccanico, i prezzi sono enormemente diversi, perché vuol dire che la meccanica comporta una grande precisione, sia di componentistica che di assemblaggio, quindi a livello di maestranze, e di maestranze, adesso una mirrorless la fanno come gnocchetti, è chiaro che ci vuole una certa controllo qualitativo, sennò poi alla fine l'utenza, cioè il cliente finale si può anche arrabbiare, si trova per dire, mi ricordo, voglio criticare Nikon, quando sono uscite la Nikon D600, che era il problema, che macchiava il sensore, Sì, anche Canon ha avuto diversi aziende, stendiamo un velo pieteoso, poi ne parleremo sui firman, perché gli ultimi che stanno uscendo, stanno facendo più guai che benefici, quindi per, finendo il discorso, per avere un profitto adeguato, i costruttori hanno aumentato i prezzi delle macchine fotografie, il guadagno puro, non sono affatto convinto che, sicuro anzi, che inammirano le costi più di una reference di pari livello, qualità costruttiva, dicevo, sì, più o meno, diciamo, siamo lì, non è che ci sia una gran differenza. Guarda, io in chiusura ti dico il mio punto di vista, poi lasciamo i commenti ai nostri amici, che intanto ringraziamo sempre, perché lasciano sempre tanti commenti, e anche molti veramente intelligenti, allora, io ti dico questo, prima di tutto, io sono d'accordo con te, sulla strategia manageriale dei brand, che a mio giudizio non ha fatto un pseudocartello, questa è un po' la mia opinione personale, perché vedo che sono praticamente tutti uguali, si muovono sempre un po' all'unisono, vabbè, comunque, a prescindere da questo, la strategia è, ne vendo meno, alzo il prezzo, guadagno anche di più. Però, il punto è che, secondo me, a meno che le fotocamere non hanno una curva inelastica, cioè, all'aumentare del prezzo, diminuisce, ovviamente, poi, il numero di vendite, diminuiscono il numero di vendite, perché, temo che questo sia un circolo vizioso, ok, adesso ci hanno messo una pezza, facendola in questo modo, ma arriva un punto in cui, io dico, ho fotocamere che vanno da Dio, perché se uno ha un X-T4, ragazzi, cioè, per fare l'esempio di Fuji, è una fotocamera che va da Dio, con modo fuoco, stabilizzazione, qualità d'immagine, cioè, se passare all'X-T5, o all'X-TX, Y, non so, quelle che saranno domani, ci devo sminchiare, 2000, 2500 euro, con l'aria che tira, secondo me, non so quanti poi lo faranno, per cui, occhio perché, c'è il rischio di un circolo veramente vizioso, che poi dopo, i meccanismi li tengono in piedi, e con cashback, instant rebate, bacino della nonna, tutte queste cose qui, va bene, però, oggettivamente, non lo so quanto può durare, sto meccanismo, e l'altra cosa, è che non sono neanche convinto, che, ma il prezzo è più alto, perché, ad esempio, gli obiettivi, perché la qualità, è più alta, secondo me, questa roba, non è assolutamente vera, non è vera, per una serie di ragioni, abbiamo parlato, preglie volte, di quanto ormai, il software incida sulle lenti, anzi, paradossalmente, alcune lenti del passato, visto che, sulla reflex, i difetti li vedevi, nel mirino ottico, e comunque, non c'era la possibilità, di correggere granché, parlo delle prime reflex, di granché, a livello software, o addirittura, sono analogiche, le lenti, dovevano essere fatte, con tutti i crispi, e quindi, non ci mettevi, la, la formulina magica, del software, io non credo, che le ottiche di oggi, siano enorme, al netto, delle correzioni software, attenzione, al netto, delle correzioni software, e ne abbiamo parlato in altri video, siano tanto superiori a quelle del passato, né come qualità costruttiva, né tantomeno come qualità ottica, forse qualche cosina, ma di certo, se noi consideriamo, che un 24-70 Canon, costava 1.200.000 lire, oggi costa, rapportato a lire, 5 milioni di lire, insomma, c'è qualcosa che strusa, cioè che non funziona, se poi pensiamo, che produttori come Tamarone, e Sigma, che è vero, hanno volumi di vendita, di ottiche molto maggiori, quindi, insomma, c'è un'economia di scala, però, è anche vero, che ti vendono, lo stesso prodotto, con lo stesso prodotto, cioè un prodotto analogo, con una qualità, molto, molto, molto vicina, se non a volte anche superiore, in alcuni casi, o quantomeno al pari, a un terzo del prezzo, o alla metà del prezzo, e questa cosa, insomma, fa un po' riflettere, quindi io, sono un po' critico, nei confronti di questa strategia, che va bene, è un'aspirina, che può far alleviare, i sintomi di un malato, ma non sta curando, secondo me, i mali del sistema, e credo, tra l'altro, che nel lungo periodo, non sia vincente, può darsi pure, che il produttore, ha detto, vabbè, intanto raccogliamo soldi, finché possiamo raccoglierli, poi quando il mondo, l'era delle fotocamere, è finita, ci ritireremo, arrivederci, e grazie, potrebbe essere, potrebbe essere, che finirà così, d'altro canto, e qui chiudo, ragazzi, Panasonic ha dichiarato, che si concentrerà, solo sulle videocamere, sostanzialmente, cioè, fotocamere, sulle ibride, sulle ibride, in sostanza, molto orientata al video, in sostanza, la fotografia, sarà solo una parte, dello strumento, un po' il concetto GH6, dai, per intenderci, quindi, l'archetipo GH6, sarà praticamente, il concetto, delle fotocamere Panasonic, che secondo me, quindi, G9, GX9, ciao, grazie, però, pare che si mantenga, sulle full frame, comunque, si mantenga, sulle full frame, come mercato, comunque, orientandole sempre molto, verso il video, insomma, è evidente ormai, che Panasonic, vuole puntare su quel mercato lì, perché è ancora un mercato, reddifizio, questa è la dimostrazione, di quando un brand, non ha, evidentemente, un passato storico, nel mondo della fotografia, non ha una tradizione fotografica, ovviamente, l'unico elemento, di valutazione, è il triste, e spietato, mercato, questo è un po', il ragionamento, bobo ragazzi, abbiamo fatto questa panoramica, un po', sulla situazione di mercato, abbiamo provato a ragionare, insieme a voi, fateci sapere il vostro commento, cosa ne pensate, cosa non ne pensate, siete d'accordo, su quello che abbiamo detto, che in realtà, vi abbiamo riferito delle notizie, insomma, cosa vi aspettate, anche un po', per il futuro, cosa temete, per il futuro del mercato fotografico, ricordatevi in descrizione, i nostri corsi di fotografia online, che potete anche scaricare, sul vostro computer, io ringrazio Roberto, e saluto tutti voi, ciao ragazzi, ciao a tutti,